Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Querta Leale, eccoci qui di nuovo con Anchiart 2, il colo dei ladri, allora, momento, allora cerchiamo di organizzarci, aia, ci posta, aia, qua un attimo dobbiamo recuperare un attimo di salute, Scusi eh, abbia pazienza, allora, guarda quel figlio di, aia, scusi, vada via, Ok Qua dobbiamo fare un attimo di parkour tra i camioncini, ma non è proprio easy la cosa Occhio Quello prima, ecco che inizia, occhio Merda, cosa un attimo l'ho scoperto Scusi, aia, eeeh, Christian Aia Ok, occhio Allora Infatti che qua dobbiamo, eh Fumo nero, non mi piace Eh, fumo nero, ma Ok Eh, non vedo un cazzo Aspetta Scusi Guarda che culo Eh, un momento, ci sto provando, va Guarda quelli come cazzo vanno, come Lupin, si muovono ste macchine Aspetti eh Occhio al, eeeh Arrivo Eh, più o meno L'auto di testa, vai Tieniti Ah ah, ci siamo, bastardi Non avete scappo, oh bordo Non possono essere sopravvissuti Andiamo Forza Come ai vecchi tempi, eh Puoi dirlo forte E adesso? Andiamo al vecchio Monastero Oscuro Dove se no? La Koshafer Dannazione Che succede? Ha preso la Zarevic Oh no Sei pronta? Certo che lo sono Eh, anche qui al monastero ci sarà da soffrire un pochino Bene Ci siamo, ci siamo Per quanto riguarda i video Capiterà che magari qualcuno esca un po' più lunghetto come quello scorso Nonostante qualche taglio, soprattutto di morti abusivissime Ma il secondo è molto più lungo del primo, quindi Ci siamo quasi Tu ci sei? Piano ora Forza Bella vista No, no, stavo parlando delle montagne Sì, sta a fermar pione, lascia fare Andiamo, andiamo Occhio Chi non è arrivato? L'ultimo camion non è mai arrivato Vediamo se riusciamo Ma non è vivo? Che cos'è? Dall'altro lato Cazzo Vederti Aia Sce vostra Aspetta che Ci raccattiamo un po' di munizioni Stole, eccetera, eccetera Ok Attrezzatissimi Aspetti, eh Dado un'occhiata Ok, possiamo andare Non so se ci siamo persi qualcosa Ma Non stiamo troppo a gigioneggiare qua Ci spaccano il culo, se no Vediamo un po' se riusciamo ad insinuarci nel monastero Eh, lo visto Eh, aspetta un po', va Poi ridiamo qua E allora vai lì No, eh Devo spingerlo un pochino Allora qua se si riesce a fare una cosa medio stealth Non sarebbe male Quelli sono bastardissimi Eh, aspettate Cerchiamo di toglierlo Merda Ma vaffanculo, va Poi ne dobbiamo togliere il più possibile Dovevamo togliere il più possibile così perché Sono tostissimi Elena Occhio Eh, lo so ma Ti metti lì Manco me l'hai ammazzato quello Sono a secco Dobbiamo cambiare armi Occhio a questi Eh, vorrei liberarmi almeno un lato Cazzo Eh, cazzo C'è anche sta gente cazzo che è cattiva però Allora Allora, momento, momento Aspetta Munizioni Ho visto Munizioni, cazzo No, la Desert Eagle Ripigliati Ahia No Merda E risali qua Guarda che faccia di merda No, quando fa così mi fa troppo incazzare Allora Che modi Adorare un po' la strada Oh Caccia stabile Occhio che c'è quello Cazzuto Merda Oh Così Non ci becca ancora quello Maledetto Così Non ce n'abbiamo un'altra E che stronzata Scusate Un'altra Aspetta Scendi Mi servono un po' di munizione Eh, pure qua dentro ci spaccano il culo Quindi occhio Sarò un attimino attenti Che fa? Si tuffa a pesce? Game A trovarci Allora Un momento Eh, sto cazzo Vabbè sti cazzi Poi ci occupiamo di questo No Mettiti a sta cazzo Di Eh Cariola Eh Questi non muoiono mai Cazzo Eh Nate Tua madre Cazzo Sto Correre Aspetta Cazzo Mi ha messo Eh Quello che sto facendo Mettiti Mettiti Vaffanculo Eh Menomale Ci abbiamo messo Una settimana e mezzo Lasciamo stare questo Se non ci interessano Vai Andiamo a segliare la fama Sì Sì Dici tu È troppo profondo L'unico modo per attraversarlo È la trave Eh Se mi spingi Stare incoglionita Ok Fermali Scendo E te la lancio Eh scendo Aspetta Fammi controllare Dove possiamo scendere Non qui direi Ebbela Sembra che con calma In circospezio Dove cazzo Stai andando Ma tanto è che questi Alcune fasi Ti fanno girare un po' I coglioni Perché A parte che ti Mazzacano O pela Vabbè Non scendere Si è fatto tutto Di denti Bene Ecco la corda Al volo Presa Io vado così E tu arrangiati Ok Seguimi Allora Vediamo un po' Qua In realtà Non so se ce la facciamo Ad arrivare lì O direttamente Così No Direttamente così Non mi sembra il caso Eeeh Quindi Si aggrappa lì Ok Dovevamo tentare In qualche modo Se era fattibile Una scorciatoia La Di qua Ok Così Dovrai fare un bel salto Ti prenderò io Ok Ti ho presa Visto? Tutto ok Mi dia una mano Ok Dammi una mano Quell'applauso Non lo so Signorina Aspetti Non è che Deve fare la splendida Adesso Perché c'è la gorda Guarda Eh Lassù Sono loro Sì Stanno portando Shaffer nella torre Dannazione Presto Dobbiamo sbrigarci Aspetti Da questa Che fai Saltata così Con sportiveggio Anza Vediamo Andiamo Dove cazzo è andata Ah proprio con cattiveria Aspetti eh Oppela Eh È chiusa Non tu orri Non c'è speranza di passare Ok Io provo ad andare dietro Per aprirla dall'altro lato Aspetta qui Ok ma non farti notare Non dobbiamo assolutamente Attirare l'attenzione Ci proveremo Guarda Sarò Un ninja Allora Partiamo con l'azione Ninja stealth Allora Ok Un momento Allora Tu cazzo vai Facciamo una cosa acrobatica Ma Non eccessivamente Ok Per il momento ci siamo Vediamo se il ninja Riesce a Concludere qualcosa C'era un buon uomo lì che Abbastanza incazzoso Capicciolo La Ma una bombetta Non ce l'abbiamo No cazzo Oh mi scusi Lascia fare Aspetta Cazzo Non è vero Mortacci vostra Ok 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 Assaltato il ninja Mi sa Si ma ci siamo giocati il ninja qua Ok Cerchiamo Fare copi Pochi colpi Cerchino di bene Perché Secondo te Non ce la facciamo Drake Merda Allora Allora Momento Cazzo Ah no Quello era morto Allora Momento Scusa Ci stanno arrivando da qua i colpi Quindi Sti bastardi Eh prima di scendere Dobbiamo Tenere bene Occhio La situazione Allora Vabbè Proviamo Ecco alla che non lo sapevo Copriti Copriti Colonna Poi Decidiamo il da farsi Anzi Scendiamo così Dov'è cazzo L'ha lanciata Ok Zitti Ieri è ritornata Coppola Scendiamo Bene Merda Tira fuori la capoccia Scusate ma quanti cazzo siete Guarda Fatti Poi più in là Così Guarda che culo Ah Vabbè Almeno qualcuno L'ha fatto fuori L'ha finito di troia Col pompazza Che dal primo piano Ci becca Adesso dobbiamo attraversare Quindi Ma in realtà Possiamo scendere anche qui Volendo Facciamo sta cosa Piano Aia Aia Da sto figlio di puttana Bene Che poi bastano pochi colpi Per Inchiappettarci Posso essere Altro lato All'interno Non mi sento al sicuro Andiamo di desertico Ci stanno altri? Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Che discrezione Aspetta No Il fuggile C'abbiamo Il fuggile Ma non c'abbiamo Il fuggile Prendi sto cazzo Il fuggile Ai coglioni Merda Guarda E qua c'è pure Quello con lo scudo Cioè Smagello È successo Un momento Eh Vabbè Oh cazzo C'abbè Ancora Un colpetto Da gestire Eh Occhio tu Quanti cazzo Di colpi Ci vuole Avanti C'hanno una precisione Nel lanciare Bombe Sti figli Di puttana Cazzo Cazzo D Chor Cazzo Grazie a tutti. A cazzo che lo devo recuperare, vaffanculo, mi avete fatto perdere sass, mortacci vostra, pelaa, sti cazzi, la cattiveria, di prepotenza ci dobbiamo andare. Mi ha ributtato un po' direttamente con questo colpo, merda. Tutto cazzo sta col figlio di puttana. Sai che ce n'era un altro qua sotto comunque. Giovine, stiamo carichi... Eh, i cecchini... Fammi salire fino alla scala. Tutto cazzo stai. Quale scala? Panico! Aspetta, qua roba. Dai, Elena! Che c'ho il pompazzo, da qua non riesco a fare moltissimo. Se mi fa salire anche a me... Va bene, ecco. Ok. Un momento. Aspetta che devo recuperare. Chi è? Ah, questi qua sopra, vabbè se scendete... Attenzione al volo. C'è qualcun altro? Sembra di no. Mi riprendo questo, magari. Aspetta. Non qua. Non là. Qua. Qua. Là. Eh, no. Devo rendermi... Merda. Scusi, eh. Di qua. Aspetta. Senta, scelga un lato. Eh. Sennò stanno a fare l'arta aperta. E qua. C'è chi non stanno in alto, quindi... Dai! Allora. Altro piano ci abbiamo fatto. Cazzo. Elena. Possiamo attraversare il ponte. Sì, ma dove abbiamo... Possiamo uscire ora. Eh. Quei cecchini ci farebbero a pezzi. Ehi! Credo ci sia un fucile da cecchino lassù. Assuto. Devo fare una cosa sterta così. Ah. Eh, bella cacata. Vai, vai. Tutta sta caciara. Un momento. Eh, perfetto il cazzo. Copriti. Troppo avvicino. Non abbiamo manco preso. Ah, non lo so. Ok. Ma sono stato io? No, no. Sono tuor. Aspetta, prima voglio far fuori questi. Voi... Portarci loro. Aspetta. Vabbè. Prima il cecchino, però, vorrei eliminare. Ok. Bene. E' così. Ok. Uno, però, mi sa che è passato, eh. Ma no, sta ancora là. Scusi, eh. Questa è l'ultimo. Attraversiamo quel ponte. Momento. Vabbè, dai, mi porto il fucile da cecchino, va. Abbiamo dieci colpi, non so se posso... Dai, ce la facciamo. Ok. Con le giadri, eh. Eccoli là. Figlio di puttana. Non abbiamo molto tempo. Dobbiamo... Forza! Eh. Ti seguo. Ma non andiamo. Aia. Stai bene. Eh. Occhio. Merda. Classico culo che c'abbiamo, però, no? Momento! Sì, ma... Ma che problemino tecnico-tattico. Arrivo. Forza. Vai. No, eh. Guarda che cazzo di cacciare che dobbiamo fare. Vai. Occhio. Eh, vabbè, allora ditelo, scusate, eh. Di qua, di qua. Destra. Dai. Sì, sì. Arrivo, arrivo, arrivo. Drake, dove vai tu succede un macello. E i beni culturali proprio saranno i tuoi migliori amici. Fatto. Che mignotta, oh. Questo va a Pompei e succede un macello più di quello che già succede normalmente. Siamo pronti? Vado prima io? Cattiva religiatria. Ecco la Zarevic. State in guardia! State allerta! Sì, signore! Dov'è Shapo? Non lo so. Credo li tengano lassù. Allora, anche questa era una bella zona. In realtà non so se uscire... Allo scoperto, o... Ah. Usciamo automaticamente allo scoperto. Allora. Sfruttiamo il cecchino che c'ha bene. Meno dieci colpi. Merda, guarda che culo. Aspetti, buon uomo. Devo ricaricare un po' la salute. Intanto ci pensa Elena che comunque spara a salve, a quanto pare. Allora, ho quattro colpi, signorina. Ecco. C'è qualcuno che lancia granate. Ultimo colpo. Eeeh, sta. Tana di... Ma madre. Aspettate, munizioni, munizioni. Qualunque cosa, qualunque cosa. Ah, pistola. Ma cazzo ti pare? Panico. Aspetta, mi metta l'angoletto. Aspetta, mi metta l'angoletto. Aspetta qui. Il mirino? Dov'è il mirino? Eh, siamo troppo attaccati al muro, mi so. No, eh, magari... Non lo so. Non mi sento al sicuro così. Quando rimane incollato, mamma mia, l'odio. Eh, vabbè, bravo. Eh, che vuoi fare? C'è dieci... Eeeh, vacca puttana. Meglio che ci infruggiamo così, perché ci stanno... Questi bastardi che fuggiti da cecchino. Merda. Cazzo sta pure qua sopra. E vaffanculo, però. Dai. E non ci spara quello pure. Di cazzo siete. Almeno questi qua, c'è chi ne alza. Aspetta. Ok. Allora. Il sasso non ci interessa. Accattiamo qualche altra munizione. Finiti? Aspetta Elena, mi recupero un po' di munizione e poi... Arrivo da lei. Il sasso. Vabbè. Va bene, lo prenderò. Ok. Mi dà la mano? No, no. Cazzo. Pronti? No. Faccio la scaletta. Anche questo capitolo è un po' lunghietto. Anche perché ci sono molti... Molte spara... Eh, calla. Non buttala di sotto in questo modo. Non dicevo letteralmente. Che noi dobbiamo fare sempre le cose più difficili. È un po' difficile. Momento. Arrivo, arrivo. Ecco a te. Abbia fede. Occhio. Facciamo il giro. Capito, zitta. Va bene. Tieni giù la testa. C'ha visto? Ma come cazzo ci ha fatto a vedere... Tocci tua. Vedo un cazzo. Eh, qua. A sinistra. A cazzo. Guarda quel figlio di puttana. No. Eh, tutto la lanci. Oh, mamma mia. Aspetta. Vaffanculo. Stacci tua. Ce n'ho più io. Eh, vabbè, sto cazzo però. Facciamo così. Fianculo. Lo sta infrosciato. Aspetta che c'è pure quello... Eccolo là. Vorrebbe avere la desertiva. Sta con la pistoletta. E c'ha il... Aspetta. Vivo sto figlio di Troia. Allora, un momento. Aspetta. Fammi recuperare un po' di... Munizioni. Qua sto spara-spara. Eh, no. Non mi prendo questa perché vorrei andare... Aspetta, controllo. Prendermi la desert eagle da questo qua. Non so se dobbiamo andare qui. Sto cercando... Beh, se lei ci segue. No. Signorina, abbiamo sbagliato. Dovamo riusci a andare di là. Damo. Aspetta, non mi controlla dove cazzo stiamo qua. C'è qualcosa? No. Bene. Scusi, scusi. Stavo cercando un... Qualche eventuale collezionabile. Qua ci inchiappettano pure, eh. Cazzo sei andato. Aspetta. Ricongiungimento. Panico. Allora, ragazzi, facciamo che ci vediamo con il prossimo episodio di Uncharted 2, il covo dei ladri, direttamente da qui, sparatore come se non ci fossero domani. Eh, va bene, dai. Voi, come sempre, fatemi sapere la vostra. Seguite sulla pagina Facebook e sul secondo canale. E un saluto a tutti da Queltaleale. E un saluto a tutti.